Ciao a tutti, tanti auguri di buone feste, di buon Natale da parte mia e dalla classe di flauto dell'Istituto Bricialdi di Terni. Nonostante siamo lontani, non possiamo suonare fisicamente vicini, noi ci sentiamo sempre uniti dalla musica e lo vogliamo dimostrare con questo piccolo video che speriamo che vi piaccia. Un abbraccio e auguri ancora a tutti! Grazie 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 a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Grazie a tutti! Buon Natale! Grazie a tutti. Auguri di buone teste.